Ciao, sono Federico Balzaretti e come tutti sapete lavoro nel mondo dello sport e della formazione. Una parola per me è la più importante, la passione, la passione che metto in ogni cosa che faccio ed è la stessa passione che ho trovato il primo momento in cui ho messo piede qui alla Weekend Pro. Mi sono sentito subito a casa, in famiglia, un ambiente conviviale, sereno, che mi ha permesso subito di entrare in relazione ottima con tutti i componenti di questa azienda. Ho sentito immediatamente una forza magnetica che poi mi ha consentito di scommetterci in prima persona. Ci sono tre fattori che mi hanno fatto innamorare della Weekend Pro. Innanzitutto il luogo nel quale ci troviamo. Dal primo momento in cui si mette piede qui si respira una professionalità, una pulizia, una cura del dettaglio straordinaria, eccezionale. Tra l'altro è l'unico posto in Italia che valta più di mille metri quadri solo ed esclusivamente a servizio della customizzazione e questo lo rende un posto unico e speciale. Il secondo è sicuramente come è trattato il cliente, quindi parlo chiaramente in prima persona. Quello che lo rende diverso è il fatto che poi il focus, il main focus, non è più la macchina ma è il cliente. E' il cliente accompagnato step by step in tutto, quindi chiaramente dalla presentazione del prodotto alla scelta del colore a tutte quelle che possono essere i dettagli che possono piacere nella propria macchina fino alla riconsegna che hanno reso questo momento unico e speciale. Mi sono sentito davvero come se fossi l'unico cliente di questa azienda, un cliente unico e speciale. Il terzo punto, che è quello più importante, è ovviamente l'unicità del prodotto perché la Weekend Pro ha il brevetto del CVR3, che è la prima vernice ad acqua nata appositamente per la protezione delle supercar e car di lusso. Ragazzi, seguitemi anche nei prossimi giorni perché vi svelerò molte più cose ma soprattutto seguiteci sulle nostre piattaforme Weekend Pro.